però quando stanotte sarà passata quando questa notte sarà passata eh noi dovremo ricordarci che non siamo un punto d'arrivo noi siamo un punto di partenza è da domani che noi dobbiamo dimostrare il nostro valore questo è il tempo della responsabilità questo è il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire la responsabilità che si ha nei confronti di decine di milioni di persone perché l'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo come non l'abbiamo tradita mai